video a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi si è quel giorno andremo a vedere effettivamente i prezzi delle carte post rarity ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio per l'acquisto di tutti i vostri prodotti tgc hanno anche la rarity quindi ovviamente se volete un piccolo sconto e supportarmi trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per jack store il miglior negozio per l'acquisto di prodotto giapponese e coreano sia di yuki che di one piece hanno di tutto dalle carte vintage della bandai a roba gradata a prova interessante spicy sleeve tappetini vabbè nel caso trovate sempre il mio referral link e il codice sconto qua sotto in più se volete liberarvi carte di yuki magic pokemon e one piece trovate sempre qua sotto il link del mio instagram contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo andiamo a vedere cosa è successo o ragazzi diciamo che le carte sono tante non sono tutte perché ovviamente ho fatto una cernita della roba un pochino più interessante e un pochino meno per alcune carte però effettivamente vi volevo far vedere quanto costavano determinate carte prima e cosa è successo post annunci orari allora partiamo da questo bellissimo gattino da soccorso allora questa è l'alternative art da come potete vedere questa carta si vendeva sui 2 euro 80 dall'euro e 2 euro 80 più o meno più che altro perché era carina l'alternative l'unico problema di questa carta come abbiamo parlato nello scorso video è la rarità gold fa palesemente schifo a tutti soprattutto perché erano printate di merda e quindi a nessuno piacevano e nessuno le ha mai prese considerate che o il mono per stava a 1 euro e 50 sta ancora e poi a salire ragazzi considerate che è una carta in inglese vabbè è una carta da 2 euro più o meno e adesso potete ottenerla in una rarità vera rispetto a questa poi andiamoci a vedere ho la anche l'altro gattino anche questo in versione gold anche questo ragazzi mi sa che almeno un paio d'euro l'uno è su 1 euro e 50 l'uno più o meno ma considerate ragazzi che siamo post annunci orari quindi sta roba è un po calata da come potete vedere e si vendeva 3 euro e 50 anche sopra i 4 c'è stato quindi effettivamente è una carta che di base costava perché per quanto a voi piaccia lo standard e i retro format spingono un botto e quindi sta roba effettivamente costa e si vende quindi da come potete vedere il prezzo è relativamente sceso andando avanti abbiamo corvo dd anche questa carta che aveva svariate print se non ricordo male ultimamente usciva anche da o ts comune poi anche nel doppio strutture de starter deck quindi effettivamente era una carta che di base stava un po dall'italia a quanto stava io le avevo 1 e 99 e sono scesi sono scesi perché comunque considerate che si vendeva fino a 1 euro e 57 forse ce l'avevo caricata un po alta però considerate da 1 e 57 a 30 centesimi a 60 più o meno un euro però considerate sempre che la rarity avrà sette rarità quindi nel momento in cui quella roba verrà immessa all'interno del mercato i prezzi scenderanno per forza perché chi è che è disposto a pagare 2 euro una carta da blcr che ha due anni rispetto a quella nuova che è palesemente uguale non stiamo parlando della rara da stone che quello è un altro discorso quella roba non cala perché da stone e non si trova questa è una classica reprint facile poi poi andando alla prossima rico rico mi direte vabbè rico quanto sta 20 centesimi no rico non sta 20 centesimi ragazzi rico è una di quelle carte che effettivamente effettivamente se vuoi giocare lightsworm ti serve quindi attualmente sta a 60 centesimi ma stava molto di più cioè guardate quanto ce ne sono sul market si vendeva un euro perché nel pratico aveva solo vecchie print erano tante ma erano tutte vecchie quindi nel pratico effettivamente la carta non si trovava cioè veniva venduta a un euro e 20 a copia una comune cioè a voi non fregherà niente però considerate che solo per questa già sono più di 3 euro poi carica carica e ricarica comuni cioè erano carte che costavano drago del giudizio si vendeva 2 euro 2 euro drago del giudizio sono tutte comuni diciamo che sono calate anche per i vari annunci che hanno fatto a parte la rarity perché comunque c'è la reprint del vecchio structure deck poi mettici anche che ristampano lo odd lo mette anche qua dentro la gente comunque lo vuole vendere e quindi leggermente abbassa il prezzo anche se comunque manca ancora del tempo prima dell'uscita andando avanti abbiamo criceto gigante superacide ragazzi questo ha fatto un drop incredibile voi neanche vi immaginate a quanto stava adesso sta un euro e 20 ma c'è stato un periodo in cui questa carta stava a 7 euro era comune da structure deck obelisk c'era una roba folle con solo con quella ti ripagavi il costo dello strutturo che è una roba che non ha senso ma effettivamente una carta forte in retro format e quindi la gente le ha comprate sul market ovviamente l'aveva fatta salire tutto qua e ovviamente ragazzi le altre versioni stessa cosa quella super è un pochino scesa stava a 19 se non ricordo male no forse 15 15 però c'ha avuto picchi di 25 25 probabilmente in lingua inglese però era una carta che si vendeva a 15 euro adesso è un pochino scesa comunque rimane una carta da abpf quindi molto probabilmente regge meglio rispetto alla reprint a reprint ci fai poco questa è la prima stampa vecchia non è la stessa cosa come rico super in prima edizione non è che crolla perché è una prima edizione da loddota per quanto anche adesso verrà ristampato il loddota unlimited mentre per quanto riguarda la versione secret ovviamente secondo me questa invece subirà dei colpi un pochino più consistenti perché vedete 12 euro secret perché questa già una print più nuova e rispetto all'altra ecco sarà probabilmente comunque differente rispetto alla nuova secret però comunque sempre secret e secondo me questo questo cala infatti ragazzi aveva venduti dai 18 ai 30 e poi adesso sta a 12 ma vabbè questo me lo aspettavo l'altro invece è proprio la prima print e quindi diciamo che chiudi un occhio sei disposto a pagarla un po di più perché effettivamente è differente a quel fascino vintage che la roba nuova non ha allora andando avanti abbiamo drollo eccolo eccolo voilà ecco cosa è successo diciamo che fino a l'altro giorno non era calato c'è successo praticamente niente anche se comunque drol si sapeva ci fosse dentro perché comunque l'avevano già annunciato però diciamo la conferma con l'apertura ne ha fatto calare il prezzo da qua si vede poco perché ancora si vende a 2 euro però effettivamente il grafico fa vedere comunque che dai 2 euro e 50 è sceso a 1 e 68 sembra molto più livida la cosa però è una carta che già sta a 2 euro quindi si nota ancora di più la discesa andando avanti abbiamo il drago bianco a chi blu alternativo che ha lo stesso drop da 20 euro a 7 forse questo è quello che reggerà un pochino meglio perché da movie pack è però ragazzi tutte le altre print totalmente inutili e brutte tipo la gold tipo queste col loghino colorato queste sicuramente scenderanno cioè allora ragazzi chi è adesso c'è pure la mia ma chi è disposto a pagarla a 14 euro solo perché ha la scritta colorata nessuno a questo punto mi compro quello da movie pack o la reprint nuova perché ragazzi stiamo parlando di un set del 2021 stiamo parlando di un set di 20 anni fa questo già il movie pack secret era un prodotto esclusivo o per festeggiare l'uscita del film the dark side of dimension che se non ricordo male era il 2016 più o meno quindi ci sta sono passati otto anni cazzo sono già passati otto anni credo poi correggetemi nel caso cioè cosa ci volete fare è così forse perché ci sono poche stampe quindi se la gente non c'è ragazzi guardate ce n'è due in italiano se nessuno dei due lo abbassa nel pratico è una carta che rimane così alta solo perché la scritta colorata viola probabilmente si venderà pochissimo perché si venderà sicuramente pochissimo e infatti guardate le vendite partono da marzo fino oggi e non sono così tante e quindi diciamo potrebbe essere il motivo per cui rimarrà un po di nicchia nessuno se ne accorgerà e rimarrà costante però nel senso sta carta non li vale sti soldi cioè facile e ve lo dico io che c'è una caricata però ovviamente se il prezzo è quello è quello poi andiamo avanti abbiamo fantasmei ragazzi fantasmei per la mia fortuna non è stata ristempata secret in questa versione quindi diciamo che è quel tipo di carta che ha retto bene anzi forse qualcosina potrebbe risaricchiare perché comunque non è la stessa cosa ragazzi per quanto la carta sia la stessa l'arte è differente quindi se io la voglio secret così cioè questa è basta io me la gioco da sast è buona se io voglio sto schifo me lo prendo da rarity che ovviamente è crollato molto di più da come vedete il grafico rispetto all'altro che è rimasto costante è un po calato rispetto all'inizio perché stava sui 25 mi sembra però non ha fatto il droppo completo come hanno fatto tante altre carte secret che stavano all'interno della rarity 1 e che avevano la stessa rarità e stesso artwork poi abbiamo anime dei maghi che questo è abbastanza costante c'è un leggerissimo drop però no 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 leggerissimo drop un par de palle diciamo i venduti hanno avuto un leggerissimo drop però attualmente cioè la carta parta da 7 euro e sta roba stava a 15 perché io me lo ricordo mesi fa stava sui 15 euro sti picchi a 30 32 non so perché però nel senso questo è praticamente quasi un terzo del valore poco di più la metà del valore ma ok poi abbiamo beh aluber anche questo ha avuto un calo non è che stesse a tanto già di base però un pochino è sceso ovviamente ragazzi sono 7 rarità quando tu fai 7 rarità di una carta ovviamente il prezzo cala perché cioè in un modo o nell'altro la carta la trovo cioè non è più una roba esclusiva ci fosse stata una print sola sti cazzi un po cala ma non così tanto ma 7 cioè tu apri un box quella carta in realtà differente sicuramente la trovi e anche in più copie ma vabbè poi abbiamo la roba pure lì abbiamo pure lì che anche questo è un pochettino calata diciamo che si nota meno no si nota si nota dai 13 è passata ai 7 play set a 9 euro questo però ragazzi sta roba a 9 allora adesso la troviamo a 9 euro ma quando uscirà il prodotto chi è che te la paga 9 nessuno ma assolutamente nessuno cioè tu puoi abbassare il prezzo quanto vuoi persone aspettano una settimana e poi si monteranno più lì con 6 euro e 50 e quindi è così poi vabbè abbiamo dragoon dragoon anche questo droppettino tattico che ovviamente dal costare 20 euro è passato a 5 questo american se ne vuole liberare instant italiano ancora regge bene sta sui 12 euro però credo che anche lì ci sarà un calo eh perché allora forse questo un pochino di più perché è una rarità che non è la classica rarità che trovi all'interno della rarity però quello ultra sicuramente il cazzo in fronte lo becca sicuramente eh allora poi poi prossima carta chimera guardiana ragazzi il grafici sono tutti uguali nel momento dell'annuncio crollano perché ovviamente le persone provano a liberarsene cioè questo è stato furbo perché ha abbassato subito il prezzo e l'ha venduto a un prezzo ancora accessibile quello che a me dà fastidio è che cioè ragazzi questa è una carta da back questa non usciva come esce la secret della rarity ovviamente il valore di questa deve essere mantenuto per quanto una persona non ce li spenda ovviamente eh 20 euro quando c'è la secret della rarity uguale ma è come dire una carta da espansione e la sua ennesima reprint la carta da espansione non è la stessa cosa alla reprint e quindi il prezzo non può cambiare perché quella era una carta che non usciva quella che hai tu la reprint è una carta che esce e quindi boh cioè ci sta il drop ma non così tanto qui le carte si dimezzano di valore anche di più cioè che senso ha cioè io ovviamente se c'ho qualcosa o un cross out anche per stare dietro al mercato ovviamente devo per forza abbassarle di prezzo perché altrimenti non le vendo però è un discorso generale per me non aveva senso abbassarla ovviamente ci sta abbassarla un po non così tanto ma è perché è una corsa al ok la voglio vendere e recuperare un po di soldi quindi anch'io l'abbasso sempre di più fino arrivare a un prezzo che effettivamente è il minimo sindacabile e niente cioè arriviamo al punto che la ristampa e la carta da espansione costano uguale ci rendiamo conto che probabilmente uscirà la chimera e praticamente varrà 6 euro quando secret d'espansione la trovi a 7 è successa la stessa cosa per prosperity cioè ragazzi la secret da BLVO valeva quanto la reprint a che senso ha perché dovrei spendere la stessa cifra per la reprint quando posso comprare il playset da espansione alla stessa cifra boh è un discorso che secondo me non ha senso cioè io comprerei solo quella da espansione a quel punto cioè dopo l'uscita della rarity io volevo comprare tutte le carte della rarity però da espansione perché non aveva senso comprarle cioè se io avessi voluto la rarità secret prendevo quelle poi per necessità di denaro alla fine non ho preso niente perché non me lo potevo permettere ma era un discorso che avrei fatto cioè se avessi potuto comprarle in quel momento avrei comprato solo la roba di espansione o a quel punto ti compri le quarter le quarter hanno già un loro senso perché sono una rarità particolare perché cioè il prezzo è rapportato al fatto che è una carta che non esce soprattutto di alcune non che non esce che esce meno e che comunque è esclusiva per quel prodotto per questi due anni e basta ma vabbè poi abbiamo garura altra carta che secondo me non ci dovrebbe essere ma ok questa è crollata totalmente io mi immagino la versione secret qua dentro quanto potrà costare 50 centesimi non di più cioè se questa sta a 2 euro quella non può arrivare all'euro cioè ci arriva ma non di più basta cioè da 14 euro gli ultimi venduti 2 euro cioè ha perso il boh tipo il 70 per cento più o meno del proprio valore che senso c'ha scusa stava all'interno di team poi ma vabbè prossima carta abbiamo ring ring broom che anche questa è crollata io sono contento di questa roba perché tipo garura l'ho piazzato tipo boh un mese fa un mese e mezzo fa ne avevo due contentissimo stessa cosa questo ma questo io non me l'aspettavo cioè boh sta roba di foto non hypernova la vedevo bene all'interno di team poi conami ha messo un po di roba lì un po la tolta fatto un po di giri perché un po stanno i team un po no e quindi ce la ritroviamo qua che attualmente sta a 3 euro carta che prima stava a 10 15 forse a 15 no 12 sì poi abbiamo tg per bibliotecario che questo da redu mi ha messo il cazzo in testa tutti ha detto a me non mi frega niente io faccio come ne pare vabbè ragazzi parliamo di redu parliamo di una roba abbastanza esclusiva le mie sono american io dai non mi abbasso che comunque sono belle nel caso non le vendo è stica cioè non è la stessa cosa ragazzi una super da redu e una super a parte questo super redu america e una super da rarity a parte che la rarity ha il silvering su alcune carte non su tutte ma può capitare che ci sia silvering e quelle di redu so delle belle mattonelle non perché ve le voglio vendere almeno me ne frega un cazzo rimangono lì però effettivamente la rarity ha il silvering almeno la prima poi la seconda vedremo e quindi tra le due preferisco questa se devo scegliere la versione super se no la secret già è una verità che ha meno silvering il silvering principalmente si vede sulle super e sulle ultra e a quel punto sì prendo quella poi quella american quella american è tipo la carta da price card che è veramente ciotta poi andiamo avanti abbiamo drago sincrona cristallo si stava ipando soprattutto perché era uno dei sincronotto più forti visto che comunque avevano bannato savage e barone e adesso è crollato di nuovo io tipo boh ne avevo venduto una a caso detto cazzo potevo metterla di più e invece sono molto soddisfatto sono molto contento dai ho tirato su qualche euro poi abbiamo anche numero 38 questo stavo sempre costante sull'euro ha droppato ma vabbè è una carta che an euro si vende ancora poi ho questa è goduria perché io quando annunciarono i team con le reprint io non mi accorsi che questa mancava le avevo caricate sul market sparirono a 3 euro luna a parte che adesso stanno ancora più di 3 euro ma queste dropperanno drasticamente ragazzi si vendevano a 15 quanti soldi ho perso in quel momento mamma mia mi sono sentito proprio male vabbè almeno meglio così poi vabbè anche a pollusa stessa cosa è crollata probabilmente la secret ha retto meglio sono abbastanza convinto perché io per la secret sono primo prezzo cioè sono primo prezzo non lo sarò più aumenterò un pochino e non si è venduta quindi sicuramente non è salita ma non credo sia scesa perché alla fine la reprinti con quell'artwork dell'orso non c'è next ho la roba unchained guardate un po' quanto stava e guardate un po' quanto sta adesso vabbè tutta roba abbastanza intuibile abbiamo già parlato della reality più e più volte tutta sta roba è crollata vabbè ce l'aspettavamo forse questa regge un pochino meglio adesso però ragazzi tanto la secret c'è anche nella reality se volete giocare un chene adesso è abbastanza budget tranne ovviamente per l'altro link che usciva in dune che attualmente sta a prezzi folli ma ne parleremo ovviamente nel prossimo market watch questo è incentrato principalmente nelle carte che sono state riosi stampate prossima carta mascherena anche questa un po' droppato perché se non ricordo male stava quasi sui 10 stava sui 6 7 vabbè attualmente sta sui 4 ma andrà a scendere poi abbiamo access code che vabbè questa già si sapeva e piano piano stava sempre più scendendo diciamo che l'uscita ufficiale ne ha ammazzato il prezzo stava a 15 tipo fino a settimana scorsa una roba del genere però ragazzi quando ve la vedete spacchettata capire che c'è veramente c'è veramente lì dentro ok poi abbiamo del mondo sotterraneo anche questa stava sui 7 si era anche ipata stava tipo anche sui 15 più o meno mi è capitato in italiano forse forse secret di averla vista anche sui 20 una roba del genere ovviamente droppata adesso sta su l'euro l'euro e 90 cioè gli italiani stanno tentando di metterla sempre a meno per piazzarla la gente che tipo si piange addosso questo si piangerà addosso perché tipo queste hanno 15 euro l'una poi sai quando chiedi troppi soldi alla fine ti rimane lì e Konami te la mette nel culo vabbè sono code che succedono prossima oh questa 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 proprio se ne sbatte altamente i coglioni detto si si ah la ristampi secret suca e ovviamente ragazzi sta carta 50 stava e 50 è rimasta cioè chi vuole svenderla sta roba nessuno questo è questo è interessante buon prezzo però è limited in prima quanto sta così curiosità eh va bene va bene non me non me la posso permettere ok poi abbiamo post of duality che questa ha fatto un drop oh è strano è strano perché la prosperity l'extrave tutte le altre dalla rarity 1 sono droppate totalmente questa ha retto veramente bene io non capisco se è perché attualmente non è ancora uscita o perché nel pratico è una carta molto più vecchia nel senso drev rispetto a blazing vortex è un set che ci avrà 7 anni in più 10 non voglio dire cavolate però è molto più vecchio quindi può essere per quel motivo che ha retto meglio sono contento è ne ho un play set quindi se regge sono solo che contento e questo potrebbe aver fatto lo stesso aggiornamento di carica tutto qua poi abbiamo ex season core anche questo droppata sì vabbè nel pratico stava già calando poi konami poteva darsi una svegliata e ristamparla prima perché l'anno scorso sarebbe stata molto più interessante contro più dettagli ognuno dopo fa come gli pare è quel tipo di carta che sale perché perché si gioca e poi rimane lì sarebbe stata interessante vederla in un vecchio ts super rara o comune e aveva molto senso come ragionamento andando avanti abbiamo mamma mia mamma mia l'altra carta blue eyes mi piange il cuore vediamo in italiano un attimo perché è in italiano che costava una sbrega e mezzo ma sì ci provano ancora ci provano ancora ma ci siamo resi conto che nessuno vi pagherà quelle carte 26 euro perché nel pratico gli ultimi venduti stanno a 5 io l'abbasserei un pochino eh cioè abbasserei un po la cresta ma vabbè ognuno dopo fa come gli pare però non credo che la vendi forse potrebbe fare lo stesso discorso dell'altro mosto blue eyes l'alternative dici vabbè può essere che rimane in sordina quella versione che rimane alta io vorrei ricordare che è un prodotto del 2021 esce dallo stesso set insieme all'alternative poi abbiamo cross out anche questa odio il tipo che ha annullato l'acquisto si vende a 5 stava a 15 a posto poi abbiamo l'altra carta unchained che sembrava aver retto bene dal grafico ma mi sa perché nessuno l'ha più acquistata e adesso da 7 euro sta 3 perché io ero primo prezzo benissimo aspetta sì dovrò tirarla giù poi abbiamo oh oh per l'ereino per l'ereino molte persone volevano un'altra roba tier qua dentro ma ragazzi esistono i team a breve avrete tutto tranquilli potrete giocare tier con 6 euro e 55 a questo giro dai stava sui 15 mi sembra quindi ha un terzo del suo valore no stava a 19 19 13 vabbè sui 15 più o meno anche questa è calata poi abbiamo ultimate slayer questa io me l'aspettavo all'interno di team tanto avevano detto che c'era pote stessa cosa anche come la terreno ma l'avevano già annunciata perché nel pratico usciva in pote e quindi aveva senso metterla lì però ok qua i playset che si sprecano a 6 euro rispetto ai 15 a cui si vendevano posto a me quando me l'hanno venduto ultimamente gli ho fatto fa subito un volo primo prezzo non mi interessava perché sapevo che prima o poi mi sarei preso un'inculata grossa quanto una capanna qualcosa è andato bene qualcosa no poi passiamo alle ultime abbiamo le due carte purelli questa dal grafico sembra costante ma il prezzo è sceso venduta 13 settimana scorsa un po' di roba ma è partita a caso un tipo mi ha preso tutto purelli goto ma c'era solo questa di costosa eh però nel senso io sono contento lui un po' meno però sono contento ha lasciato pure il feedback positivo altra carta purelli abbiamo qua memoria graziosa droppettino tattico anche qua 1,95 euro stiamo a posto poi abbiamo il pianeta di cash tira io qua goto goto perché tanta gente mi ha proposto cash tira io ho detto guarda ti posso dare x non mi hanno risposto potevano anche dire no invece non mi hanno risposto e adesso si ritrovano la terreno che vale la metà di prima e continuerà a scendere ragazzi perché tanto la secret esiste quindi questa cosa sta roba cala perché se è calata la prosperity calerà pure questo ancora quindi quindi mettetevi il cuore in pace potete valerarlo via prima e come ultima abbiamo la terreno visas di base pensavo stessa di più infatti per quello che l'avevo messa e invece era già droppata ha droppato ancora di più rispetto a prima però ho messo a sto mazzo non so l'incula più nessuno vabbè intanto non è meta quindi era una roba che le persone potevano aspettarsi ma ok e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se avevate qualcosa che siete riusciti ad arrivare in tempo oppure se avete preso qualcosa che effettivamente si è svalutato e vi volete solo tagliare la gola grazie mille per avermi seguito anche oggi e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ah! te ho beccato non hai ancora lasciato like e non ti sei iscritto dai ti do 5 secondi per farlo 1 2 3 dai so che hai già fatto grazie mille ti lascio al video